Musica Controfrontale tra auto e furgone a Falconara Marittima muore una donna di 76 anni Dopo un incidente in via Soncino a Fano, un'auto tampona la pattuglia della polizia intervenuta per regolare la viabilità dopo un sinistro Opere compensative a Pesaro, sette querce secolari potrebbero essere abbattute per far posto alle barriere antirumore Parte l'esposto di lega ambienti di un comitato, questa mattina l'incontro con i tecnici di società Autostrade Efficientamento energetico del Teatro della Fortuna, a dicembre partono i lavori per ridurre i consumi di luce e gas del 30% A Fano torna il premio La Fortuna d'Oro al via le proposte di candidatura di chi ha dato lustro alla città nel 2020 e 2021 Si intitola Macerie ed è il primo singolo della quindicenne fanese Aurora, il brano è uno simula Non smettere mai di credere in se stessi anche se tutto sembra cadere a pezzi Fuori e dentro sempre in carcere E accolgo macerie Spero che passerà Che il tempo che ho mi basterà Guardiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Bentornati sul canale 19 del Digitale Terrestre Apriamo il nostro telegiornale con l'incidente mortale avvenuto alle 12.30 a lungo via Flaminia a Falconara Marittima Perdere la vita è stata Maria Grazia Zannini, 76 anni, ex insegnante in pensione La donna era la guida di un arreno Clio quando si è scontrata frontalmente con un furgone condotto da un operaio di 55 anni L'uomo è rimasto lievemente ferito, per la donna invece non c'è stato nulla da fare Le cause del sinistro sono ancora in fase d'accertamento ma sarebbero riconducibili ad una invasione di corsia da parte della donna Che potrebbe essere stata accolta da un malore La salma è stata messa a disposizione del magistrato di turno mentre i due mezzi sono stati posti sotto sequestro La strada invece è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e poi è stata riaperta poco dopo le ore 14 Nel Senigallese proseguono senza sosta le ricerche per Brunella Chiù, 56 anni, l'unica dispersa dall'alluvione del 15 settembre I soccorritori sono a lavoro per il 34esimo giorno consecutivo Oltre ai vigili del fuoco che operano anche con i sub ci sono volontari della protezione civile Carabinieri forestali e finanzieri del gruppo Cinofili per un totale di circa 25 persone Le operazioni si stanno concentrando nella zona di Costa e di Barbara dove la donna era stata trascinata via dalla furia del nebola Passiamo alla protesta scoppiata a Pesaro dove sette querce potrebbero essere abbattute per far posto alle barriere antirumore Nell'ambito dei lavori della bretella autostradale I dettagli nel prossimo servizio con le interviste che ha curato Cristiana Guerra A seguito dell'annuncio della chiusura di strada Arnaldo Carloni vicino agli orti degli anziani Per il completamento dei lavori della bretella autostradale Si era accesa l'attenzione sul destino delle querce ai lati del percorso Purtroppo, si legge in una nota del neonato comitato Salviamo le querce di Pesaro A tutt'oggi non risulta che si sia preso atto della loro esistenza E le piante continuano ad essere trattate come arbusti da accantonare Per far posto alle barriere antirumore in acciaio Presto dunque saranno abbattute a fronte di questo pericolo Hanno aggiunto, non resta che il ricorso è una denuncia formale alle autorità competenti Per danni irreversibili all'ambiente e al paesaggio In mattinata sono stati chiamati anche i carabinieri È un delitto contro i patti presi Per cui il comitato ha avuto garanzie da parte del direttore dei lavori Che la querce non sarebbe stata toccata Fino a quando non avessimo individuato o una linea comune O un netta demarcazione tra le due parti Questo incontro è previsto tra due ore Quindi non si capisce perché si debba operare in questa fase Questa è la prima manchevolezza sotto ogni profilo Di rapporto intergruppi, sociale La seconda è perché questa quercia è da salvare Nel senso che c'è una legge regionale Di là dal fatto che coscientemente chi fa un progetto di questo tipo Da solo vede che è un elemento guardi intorno È l'elemento principale di questo paesaggio Quindi se si danneggia quella quercia Il primo delitto è verso il paesaggio Il secondo delitto è verso le istituzioni Che hanno fatto una legge apposita per salvare le querce Il terzo delitto è sulla procedura per ottenere questo tipo di abbattamento Perché le querce si possono abbattere soltanto avendoli individuate una per una Con delle autorizzazioni ad hoc E queste autorizzazioni in questo caso non ci sono Perché la quercia è massificata in un gruppo di arbusti da demolire Che verranno compensati con un boschetto di pianticelle di vivaio Alte un metro che sarà posto qui davanti Le querce sono sette? Le querce sono sette Si parte da qui e sono là Per abbattere le querce, ha proseguito l'architetto Filippini Occorrono delle alternative al tracciato e alle barriere agli atti mai evidenziati L'errore di fondo da parte di chi è preposto al controllo È stato quello di non aver preteso questa verifica Loro non l'hanno fatto e noi abbiamo chiesto un incontro con il Comune Per portare noi queste alternative Per cercare di chiudere l'episodio all'interno del percorso possibile Nel senso che fino a quando le querce non sono abbattute Non siamo in ritardo Anche lei stamattina qua presente a difesa delle sette querce secolari Sì certo, siamo qua come lega ambiente a difesa di queste querce Abbiamo già fatto un esposto e l'abbiamo già inviato ai carabinieri la scorsa settimana Questa mattina abbiamo un incontro in Comune con la società Autostrada e con il Comune stesso Per vedere appunto come rimediare E ci troviamo una sorpresa un'ora prima dell'incontro Che stanno già cominciando a tagliare Ci sembra una cosa molto scorretta Anche perché secondo noi c'è la possibilità di evitare l'abbattimento di queste querce Con soluzioni tecniche diverse rispetto a quelle progettate dalla società Autostrada Quindi ci sembra logico ragionare in questi termini e trovare un accordo Durante l'incontro con i tecnici di società Autostrada e il Comune Poi è stata esaminata una proposta ed un'altra verrà sottoposta all'esame delle parti Per arrivare ad un'intesa al momento le querce non verranno abbattute Tampona un'auto della polizia intervenuta a causa di un incidente È successo questa mattina alle 8 in via Suncino a Fano Dove la pattuglia era ferma a bordo strada e quella peggiante accesi Per effettuare servizio di viabilità in attesa degli agenti della polizia locale A bordo del veicolo fermo, una Seat Leon Era presente un poliziotto che stava effettuando delle comunicazioni radio Relativa al sinistro che ha visto coinvolti una Ford Kuga e uno scooter A tamponare la pattuglia è stata una Toyota Corolla Condotta da un 59enne di origini marocchine e residenti a Fano Che trasportava il figlio minorenne Per fortuna le persone coinvolte sono rimaste illese Il conducente della Corolla è stato sottoposto ai test del caso ed è risultato negativo Per quanto riguarda invece il primo sinistro per il quale erano intervenuti gli agenti Un fanese di 53 anni a bordo appunto di una Ford Kuga Una volta giunto in prossimità della rotatore di Sant'Orso Ha urtato lo scooter che lo precedeva Il conducente dello Scarabeo, un uomo di 67 anni, è stato trasportato all'ospedale di Fano in codice giallo Dalla fine del mese di dicembre partiranno i lavori di riqualificazione energetica del Teatro della Fortuna di Fano Un intervento che permetterà di diminuire i consumi del 30% È un'occasione per migliorare e innovare la casa della cultura fanese strizzando l'occhio ad una gestione più sana e virtuosa Il Teatro della Fortuna sarà infatti oggetto di lavori di efficientamento energetico focalizzati sull'impiantistica Grazie ad un bando da 400.000 euro legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza A questi si aggiungono altri 250.000 euro messi a disposizione dal Comune L'intervento andrà a diminuire notevolmente i costi di luce gas Ad oggi, a seconda delle stagioni e degli eventi che si svolgono a teatro, le bollette si aggirano attorno ai 13-14.000 euro Fino ad arrivare a 25.000 euro al mese L'edificio storico, che si articola su cinque piani, dal seminterrato al sottotetto, ha una superficie di 3.800 metri quadrati e un volume di oltre 28.000 metri cubi Saranno tutti interventi di efficientamento energetico e si concentreranno prevalentemente nella parte della centrale tecnologica situata nel sottotetto del teatro e consisteranno nella sostituzione di una pompa di calore esistente, che andrà a sostituire quella esistente non più performante nella sostituzione delle due unità di trattamento aria, che sono a servizio della sala principale e della sala verdi di alcune elettropompe per migliorare l'efficientamento energetico e la durabilità e anche la manutenzione e infine, per quanto riguarda la centrale termica, il bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria verrà sostituita da un'altra pompa di calore Qui nel teatro, nella sala principale, il palcoscenico, attualmente è dotato di lampade alogene, che verranno tutte sostituite da lampade LED ovviamente più performanti e di maggior durata Infine, tutti i ventilconvettori, sia quelli delle sale che quelli dei foyer, della biglietteria, delle scale verranno sostituiti da nuovi elementi, ovviamente più performanti e che ci consentiranno di raggiungere nel complesso degli interventi un efficientamento energetico di circa il 30% passando da una classe energetica E a una classe energetica D Presidente, qual è il cronoprogramma? Cominciamo da dicembre, fine dicembre si inizia il cantiere Gennaio, febbraio altri piccoli interventi, ovviamente che non vanno a disturbare la stagione di prosa e poi da aprile, dopo il 16 aprile che si chiude la stagione di prosa e anche di concerti i lavori fino alla fine di agosto per ritornare con l'auspicio di tutti a settembre con tutta la sistemazione delle pratiche eccetera eccetera e a ottobre ritornare a riaprire il teatro alla città Presenti alla conferenza stampa anche l'assessore Brunori e il sindaco Seri il quale ha ricordato il percorso avviato già da prima dell'emergenza energetica amministrare, ha detto il primo cittadino, significa anche pianificare Nel 2019 come ben sapete siamo partiti con un progetto che riguardava l'efficientamento energetico degli edifici comunali a seguito della pandemia l'abbiamo incrementato e poi dopo l'abbiamo reincrementato ulteriormente l'anno successivo nel 2021 con Energy Manager e poi Ufficio Energia, questo ci ha portato a fare delle diagnosi energetiche pronte, documenti che ci vogliono diversi mesi e tra l'altro costano ma grazie a questi progetti noi siamo riusciti ad ammortizzare i costi grazie a questi incarichi e quindi ci siamo ritrovati con il pacchetto pronto per poter affidare l'incarico di progettazione per poter partire con una progettazione esecutiva di certi interventi di riqualificazione oltretutto i bandi non sarebbero stati accessibili senza le diagnosi energetiche quindi vediamo che il tempo ci sta dando ragione su aver seminato in una certa direzione Dal gruppo consigliare della Lega Mar che arriva una proposta di legge sugli impianti e fotovoltaici con moduli ubicati a terra il tema energetico costituisce una sfida per il futuro ha spiegato Luca Serfilippi primo firmatario ma non possiamo permettere che lo sviluppo di questi impianti ha detto diventi l'occasione per devastare il paesaggio l'esempio di Cartoceto e Carrara di Fano ha aggiunto Serfilippi dove un'azienda privata vorrebbe strutturare un parco agrivoltaico di 45 ettari è eclatante la proposta di legge del gruppo Lega introduce degli indicatori che dovranno essere valutati nel procedimento autorizzativo inoltre contiene un elenco di aree idonee e non idonee e tra queste ultime le aree naturali protette o caratterizzate da situazioni di rischio idrogeologico e quelle interessate da produzioni agricole di pregio ad esempio biologiche, DOC, IGT e DOP oltre ai paesaggi di interesse storico Cambiamo argomento entro il 30 novembre è possibile inviare le proposte di candidature per il premio La Fortuna d'Oro un riconoscimento che verrà consegnato a chi ha dato lustro alla città di Fano negli anni 2020 e 2021 Istituita 40 anni fa, La Fortuna d'Oro ha lo scopo di esprimere pubblicamente la riconoscenza dell'intera comunità fanese alle cittadine e ai cittadini che si sono distinti nei settori legati alla cultura, alla scienza, allo sport e al sociale il premio è stato riproposto anche quest'anno dal sindaco Seri e dalla presidente del consiglio comunale Carla Cecchetelli che vogliono valorizzare il senso di appartenenza alla città questa edizione, dopo l'ultima del 2019, attribuirà due riconoscimenti per il merito e l'impegno ad altrettante personalità di spicco le tradizioni e le radici, ha commentato Cecchetelli, ci indicano la strada verso il futuro Pubblicheremo nel sito del comune di Fano una modulistica dove ognuno può proporre il nominativo di queste persone che ritengono più meritevoli per la città e per il loro curriculum professionale che hanno e della persona gli anni che sono proposti è l'anno 2020-2021 in quanto siamo stati fermi un paio d'anni per la pandemia questo modulo viene scaricato nel sito internet ed è valevole per l'anno 2020-2021 questa domanda deve essere consegnata via mail dove c'è scritto l'indirizzo alla presidenza del consiglio oppure portata via mail in brevi mano alla segreteria e la scadenza abbiamo dato il 30 di novembre perché dopodiché chi esaminerà queste domande sarà una commissione che è formata da dei componenti di diritto del comune e delle componenti nominate dal consiglio comunale quindi la previsione di consegnare questo premio che si tratta di una medaglia d'oro rappresentante allo stemma della fortuna d'oro intendimento di concludere nel periodo di gennaio insomma 2023 la cerimonia poi si svolgerà a teatro nelle passate edizioni il premio la fortuna d'oro ha visto la città di Fano stringersi con stima e riconoscenza attorno a figure come lo scrittore Fabio Tombari il giornalista Valerio Volpini il regista Leandro Castellani la manager sportiva Paola Porfiri e ancora il missionario Don Paolo Tonucci il giovane medico e ricercatore Filippo Fortuna il fondatore dell'Africa Chiama Italo Nannini il professore Alberto Berardi e tanti altri avere un premio è importante tutte le città che si dicono tali lo hanno perché riconoscere meriti e valorizzare e premiare quei concittadini che perché sono nati qua o che vivono qua che hanno fatto cose importanti hanno dato lustro alla nostra città hanno portato il nome di Fano attraverso l'Europa nel mondo bisogna festeggiarli e bisogna rendergli gli onori come faremmo in una qualsiasi famiglia quando un componente ottiene un grande risultato in questi anni sono stati attribuiti a tante personalità e noi vogliamo continuare per cui l'invito è quello di segnalare quelle donne, quegli uomini che attraverso la loro opera nel mondo della scienza, dell'educazione della solidarietà, della diplomazia dello sport, insomma in tutte quelle discipline dove si sono fatte cose importanti L'amministrazione comunale di Colli al Metauro in collaborazione con la Bress Unit di Urbino ha organizzato per sabato 22 ottobre alle 17 al Museo del Bali una conferenza dal titolo La prevenzione arma vincente contro il tumore al seno il carcinoma della mammella è una delle patologie oncologiche più significative in Italia per incidenza nella popolazione femminile nel nostro paese rappresenta la prima causa di morte nelle donne nella fascia di età tra i 35 e 44 anni ed è in assoluto la seconda causa di morte per tumore il 40% delle neoplasie può essere prevenuto adottando uno stile di vita corretto e può essere diagnosticato in fase iniziale grazie alla prevenzione prima che si manifesti clinicamente con elevatissima percentuale di guarigione temi che saranno trattati dai professionisti della Bress Unit un'equip multidisciplinare fiore all'occhiello della nostra provincia nel campo sanitario si chiama Non resterò al tappeto come reagire ai pugni della vita ed è il titolo dell'incontro che venerdì 28 ottobre alle 20.45 al Palabadiali di Falconara Marittima vedrà protagonista Julio Velasco dirigente sportivo e allenatore di pallavolo argentino naturalizzato italiano attualmente svolge per la Federazione Italiana di Pallavolo l'incarico di direttore tecnico delle squadre nazionali giovanili maschili che sotto la sua direzione hanno vinto più edizioni dei campionati mondiali ed europei nelle diverse categorie Velasco è l'unico allenatore ad aver vinto con squadre nazionali di tre continenti diversi l'evento ad ingresso libero fino ad esaurimento posti è organizzato dal GAS il gruppo amici per lo sport l'obiettivo hanno spiegato è quello di dare un contributo verso quell'aspetto che riguarda tutti affrontare, reagire e rialzarsi dopo una crisi i pugni della vita infatti sono momenti inevitabili ma rappresentano un'importante occasione di approfondimento personale e di rinascita e un altro incoraggiamento a non smettere mai di credere in se stessi arriva dalla cantante fanese Aurora con il suo primo singolo Macerie Aurora quando è uscito questo singolo? Allora questo singolo è uscito il 21 settembre su tutte le piattaforme digitali e diciamo parla della mia necessità di mettere in musica tutto quello che io da tanti anni sto passando e che penso tantissimi ragazzi e non stanno passando soprattutto dopo la pandemia Ecco quindi qual è il messaggio che vuoi lanciare? Il messaggio di non smettere mai di credere in se stessi anche se si passano dei brutti periodi come quello che molti stanno passando non ci dobbiamo abbattere e nonostante tutto sembra crollare cadere a pezzi tutto passerà Chi ha collaborato a questo progetto? Allora questo brano è stato prodotto da Giacomo Bertozzini e scritto da Tiflow con la mia collaborazione diciamo Tu sei giovanissima, hai 15 anni ma già stai studiando canto? Sì, studio canto da sei anni e ancora appunto sono piccola quindi ho tutto il tempo di prepararmi e fare tanto altro infatti sto approfittando di questi anni e ancora non posso fare cose tanto grandi e quindi mi preparo magari a un talent o qualcosa Quindi ti piacerebbe proseguire nel mondo della musica? Assolutamente Ti tengo appunto a ringraziare i miei insegnanti Lucia De Mare e Thomas Pacchini che mi hanno sempre accompagnata nel mio percorso di crescita musicale Dove è possibile trovare questo brano? Allora questo brano è disponibile su Spotify e particolarmente su Youtube Anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Luciana Terenzi e Carlo Alessandrini che oggi festeggiano 59 anni di matrimonio Questa coppia originaria di Fano vive a Toronto in Canada dal 1958 Auguri dai familiari e da tutti noi di Fano TV Io vi ringrazio per aver scelto di seguire Occhio alla Notizia e ci rivediamo domani sera alle 20 e 30 sempre sul canale 19 Arrivederci Grazie